buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro per il ciclo pop mat anche quest'oggi abbiamo il nostro incontro è registrato quindi chi non avesse piacere essere registrato audio video semplicemente può disattivare telecamera e microfono e quest'oggi lascio la parola stefano da te per introdurre il nostro relatore di oggi sì buongiorno a tutti sono molto contento di poter introdurre oggi siamo tutti contenti di avere Pier Daniele Napolitani al nostro seminario Pier Daniele insegna a Pisa insegna storia della matematica qui a Pisa e si è sempre occupato in particolare di storia della matematica della prima età moderna con particolare attenzione alla tradizione archimedea nel pensiero del rinascimento appunto la prima età moderna ha lavorato pubblicato su Marino Ghettaldi per esempio su Luca Valerio su Galileo ovviamente Cristoforo Clavio e tra i progetti che sta portando avanti e da da vari anni è per esempio eh l'edizione nazionale delle opere di Francesco Maurolico eh di cui Daniele mi diceva che sta per uscire insomma sta per essere completato il volume proprio eh su Archimede su Archimede e eh ma mi piace ricordare altri due lavori di eh di eh di Daniele che sono eh innanzitutto l'edizione che risale ormai a qualche anno fa ma che eh adesso è anche disponibile online gratuitamente l'edizione del carteggio di Cristoforo Clavio eh che è un'opera da chi studia eh storia della scienza o storia della matematica prima età moderna è un'opera eh veramente utile e poi questo volume che faccio vedere eh che Daniele ha scritto con con Paolo d'Alessandro eh Archimede Latino è uscito in questa collana purtroppo credo eh che si sta chiudendo eh purtroppo si chiama Science Savoir la casettrice delle belle lettere ehm veramente un un lavoro eccellente mi permetto di dire ehm eh oggi Daniele ci parlerà appunto ancora di eh Archimede Archimede le volte il titolo del suo seminario e io eh lascio la parola a lui il microfono Daniele ok grazie Stefano eh grazie Claudio per l'invito grazie a tutti per questo cosa saluto vedo qui tanti amici Veronica Edoardo Edoardo quant'è che non avevo tue notizie infatti non mi vedi però non ti vedo ma almeno vedo il tuo nome Enrico mi sento un po' imbarazzato anche siamo abbiamo scritto una cosa insieme sì molti nel prestocene o nel nel neolitico non so non ricordo bene ehm credo fosse la mia prima tra l'altro prego credo fosse la mia primissima il primissimo lavoro comunque eh cosa dicevi Edoardo? Era il mio primo lavoro era il tuo primo lavoro anche il mio credo no? Abbiamo cominciato a pubblicare insieme comunque abbiamo preso strade molto diverse comunque Erika eh Erika insomma sono un po' imbarazzato devo dire perché molti degli amici che sono qui questa è la storia che racconterò la conoscono benissimo quindi non quindi io non so se ritenerlo un atto d'amicizia oppure hanno preparato dei pomodori virtuali ehm e bene e cominciamo grazie ancora a tutti per l'organizzazione e per essere presenti share screen share screen ah ecco è stato share un secondo solo ehm e ci siamo ecco eh come sapete il titolo Archimede le volte un altro Eureka ehm questo come vedrete si riferisce a al eh al quello che vedremo in questo in questa conversazione ehm ovvero sia ehm quello che vorrei affrontare è il rapporto che c'è fra l'Archimede del mito l'Archimede così che più famoso eh quello di Achille Campanile datemi un punto d'appoggio vi solleverò il mondo allora era in giro tutto stracciato perché appena andava dalla serba a chiedergli di riparargli uno strappo e diceva sì sì datemi un punto no ehm e invece l'Archimede delle opere devo dire l'Archimede quello che ha scritto le opere ci sono pervenute sono un po' meno note ma appunto cominciamo e vorrei appunto affrontare eh il tema di questa conversazione che rapporto c'è fra l'Archimede del mito e l'Archimede eh matematico quello la sua opera matematica ora eh appunto il mito ehm ci sono varie ehm ci sono pervenuti vari aneddoti ehm l'ingegnere e l'inventore geniale il baro della Siracosia che il re di Siracusa Gerone una nave colossale una specie di portaerei eh che non riuscivano a varare Archimede costruisce un congegno e girando la manovella con la mano di questo congegno con la mano sinistra vara la nave la corona di Gerone su cui torneremmo quindi ora non dico niente le le varie invenzioni di macchine che gli vengono attribuite eh il planetario qui si vedevano i movimenti del sole della luna dei pianeti il planetario esistito davvero ne parla Cicerone dice che a Roma ce n'era due esemplari uno che era a casa di non ricordo chi e l'altro si trovava in un tempio le macchine da guerra su questi che sono più o meno tutte cose eh testate poi ci si sommano ulteriori leggende come quella degli specchio storico qui abbiamo l'ingegnere e l'inventore poi c'è il difensore della patria che fa sempre parte del del mito di Archimede che è la vera anima della resistenza contro i romani ehm sapete che appunto se Siracusa durante la prima guerra punica si era schierata diciamo in una posizione di neutralità ehm ma diciamo sostenendo di fatto i romani dopo la battaglia di Canna nella seconda guerra punica c'è un rovesciamento di alleanze e ehm e ehm Siracusa passa dalla parte dei carteginesi i romani Marcello assedia a Siracusa e Archimede grazie alle sue macchine per esempio la mano sferrea che esce dalle mura di Siracusa afferra le navi romane le fari cadere in acqua o baliste particolarmente di tutte le tipi e dimensioni con cui ehm riusciva a impedire alle truppe romane di accedere alle mura della città da parte di terra e naturalmente poi la leggenda degli specchio storico poi c'è un'altra cosa che c'è pervenuta è Archimede prigioniero delle muse questo appunto che è ben incarnato nel nel pezzetto di di Achille Campanile vi citavo un attimo fa eh quando ehm appunto Campanile dice che non poteva più fare niente perché ogni volta che chiedeva un punto per qualcosa e lo sappiamo lo sappiamo ma al di là di questo c'è la storia appunto della corona quando lui scopre come risolvere il problema della corona non ne parlo ora perché ne parleremo a lungo in seguito eh quando scopre come risolvere il problema della corona salta fuori nudo dal bagno corre per le strade di Siracusa gridando eureka eureka oppure eh appunto il genio distratto ci torneremo fra un secondo su questo aspetto del genio distratto cioè la eh l'uomo di genio che vive un po' dentro il mito d'Archimede si viene a configurare questa cosa l'uomo di genio che vive un po' in un altro mondo e ogni tanto ne discende su questo per dirci le sue scoperte e poi infine ehm il problema del rapporto fra il sapiente e potere i rapporti che lui ha con la casa reale di Siracusa si pensa non so con quanto fondamento che fosse addirittura imparentato con Gerone eh Gerone eh aveva voluto fare di Siracusa una grande metropoli ellenistica e aveva e al di là della parentela o meno con Archimede Archimede aveva sicuramente eh svolto una funzione che anacronisticamente potremmo definire di ministro dei lavori pubblici eh sappiamo che già nei primi tempi della prima guerra punica fin quando Gerone è stato re di Siracusa aveva fatto costruire molte macchine aveva contribuito a appunto a situazioni come il valo della nave e altro e possiamo appunto immaginarci questo e questo eh da una parte questi suoi rapporti col potere siracusano si contrappongono ai suoi rapporti col potere romano che lo vedono eh distrutto eh la famosa leggenda la famosa leggenda eh eh la famosa leggenda di racconto che ci fa Tito Livio che Marcello quando riesce finalmente a conquistare Siracusa grazie al tradimento di alcuni mercenari eh dà ordine di risparmiare la vita di Archimede cioè del suo difensore allora un legionario arriva a casa di Archimede lo vede in tento a disegnare eh a studiare e gli ordina di seguirlo Archimede avrebbe pronunciato la famosa frase non riturbare circolo smeos cioè non non rovinare i miei cerchi però il legionario arrabbiato l'avrebbe ucciso e Marcello alla notizia avrebbe pianto questa questa versione di Livio è stata fortemente criticata recentemente si vede male ma vedete l'assassinio di Archimede di Lorenzo Braccesi in Esperia nel 2008 è stata fortemente criticata appunto da Lorenzo Braccesi che è uno storico eh greco cioè nel senso che è italiano ma si occupa di storia greca ehm in quanto è difficile immaginare eh questo eh un Marcello che era un brozzo generale romano reduce appunto da eh da una strage che era avvenuta a pochi proprio all'inizio della sedia di Siracusa di una città vicina a Lentini eh immaginarci questo eh Marcello così tenero nei confronti di Archimede che poi piange si copre il capo quando sa che è stato ucciso ehm piuttosto Braccesi sostiene che eh Marcello avesse dato ordine di ucciderlo in quanto ehm è presumibile che Archimede fosse uno dei capi del partito filo cartaginese a Siracusa quando non si affida la difesa della città a chiunque ma eh comunque sia mh diciamo il il mito d'Archimede quindi ha tutta una serie di sfaccettature che eh hanno attraversato i secoli da appunto Livio Cicerone eh Plutarco Valerio Massimo e poi Petrarca e poi e poi tutto l'umanesimo e poi via via fino ad Achille Campanile e eh naturalmente a Archimede Pitagorico e da una parte abbiamo questa figura che attraversa la storia della società occidentale e da quell'altra abbiamo la sua opera matematica l'opera matematica che molto grossolanamente è una divisione così piuttosto di comodo può essere divisa in opere geometriche la sfera il cilindro eh la misura del cerchio la sfera il cilindro dimostra che la sfera eh i due terzi del cilindro circoscritto e la sua superficie sferica e la sua e la superficie sferica cioè è uguale a quattro cerchi massimi ehm la misura del cerchio in cui c'è la famosa determinazione del rapporto fra eh circonferenza e diametro eh iconoidi e sferoidi in cui studia eh diciamo anche se non è preciso dirlo ma lo chiariremo fra un attimo studia i volumi del paraboloide dell'iperboloide e dell'elissoide di rotazione le spirali in cui studia la famosa spirale che ha il suo nome la spirale d'Archimede eh accanto a queste opere appunto che possiamo classificare e abbiamo opere in cui la meccanica e la geometria si mescola con considerazioni di tipo meccanico la quadratura e la parabola che eh in cui Archimede dimostra che un segmento di parabola uguale ai quattro terzi del triangolo di stessa base stessa altezza in due modi diversi uno utilizzando delle specie di bilancio virtuali e un altro eh invece con una quadratura geometrica il metodo meccanico di cui parleremo in seguito in cui appunto Archimede illustra eh le sue mh il suo approccio euristico e problemi che ho descritto sopra utilità che si fonda essenzialmente sull'uso di una bilancia poi abbiamo opere proprio meccaniche opere meccaniche come l'equilibrio dei piani eh che è un'opera in due libri un'opera molto discussa perché la coerenza fra il primo secondo libro è piuttosto debole ma insomma non è questa la sede di entrare in questo tipo di discussioni o i galleggianti in cui ehm in cui Archimede oltre a enunciare e dimostrare il suo famoso principio di galleggiamento determina le condizioni di equilibrio di un paraboloide ehm di un paraboloide eh immerso in un liquido eh di peso specifico eh maggiore e ehm determina queste condizioni ehm che eh si tratta di un'opera questo questo risultato particolarmente complesso quindi questa è l'opera che ci è pervenuta sì certo ci sono altre cose come lo stomacchio e altre cose pervenuteci attraverso la tradizione araba ma non è qui non è questo che mi interessa in modo particolare è giusto un po' per fare il punto e darvi qualche eh qualche elemento di riferimento quindi abbiamo da una parte il mito da quell'altra quest'opera un'opera particolarmente come si può dire arida eh per chi non sia un matematico non c'è riferimenti extra matematici non se ne trovano non è che nei galleggianti parla non so del problema del galleggiamento delle navi o nella nei colloidi e sferoidi parla di come si possano costruire meglio dei proiettili niente di tutto questo solo teore eh enunciati definizioni postulati eh fra cui lui li chiama lemmi cioè cose prese cose assunte eh come il famosissimo postulato di Eudossa Archimede e dimostrazione l'opera geometrica ha queste caratteristiche di appunto che si tratta di opere brevi eh in contraposizione per esempio non so gli elementi di Euclide o o so le coniche di Apollonio o alle sferiche di Teodosio di Menelao si tratta di opere brevi centrate sulla soluzione di un problema ben preciso la quadratura e la parabola il rapporto fra sfere e cilindro ehm la rettificazione della spirale l'area della spirale inoltre un altro eh quindi non non sono l'opera d'Archimede è centrata essenzialmente sulla geometria l'opera geometria d'Archimede centrata essenzialmente sul problema di geometria di misura ma non è un eh trattato di geometria di misura non sono gli elementi Archimede non l'ha mai scritto gli elementi di geometria di misura come Euclide ha fatto per gli elementi della geometria o Apollonio ha fatto per le coniche inoltre scrive per altri matematici che è una diretta conseguenza di quello che ha appena detto quindi con uno stile estremamente littico ehm è pieno di 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 il testo è pieno di 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 passi in cui si salta da una cosa a un'altra senza nessuna giustificazione anche se le cose sono giusti in molti quasi sempre giustificabili in altri un po' meno per esempio l'uso di certe tecniche o so per esempio l'uso dell'inserzione di due medie proporzionali nella sfera nel secondo libro della sfera il cilindro eh il problema che come immagino molti di voi sanno eh un problema che non risolubile con riempasso quindi che non di cui non si trova uno uno standard per poter essere usato inoltre terzo punto è che se è chiarissimo cosa vuol fare perché lo enuncia nella lettera di dedica con cui invia le sue opere ad Alessandria per esempio nella sfera il cilindro dice che vuole dimostrare che la sfera è due terzi del cilindro circoscritto la superficie sferica è quello che è ma eh se è chiarissimo cosa vuol fare è difficile capire come riesce a farlo tipicamente un'opera di Archimede comincia con un pacco di lemmi eh nella sfera il cilindro che sono in tutto una quarantina di quaranta quarantacinque quarantasei proposizioni il primo libro eh di queste quarantacinque quarantasei proposizioni comincia con venti lemmi che non si sa dove vadano a imparare che poi naturalmente vengono richiamati come usano la geometria greca in successivamente senza un rinvio come è stato dimostrato nella proposizione tre la geometria greca questo tipo di rinvii non si fanno quindi il lettore è il lettore di un'opera d'Archimede si trova di fronte effettivamente al lettore diciamo post ellenistico quantomeno o forse anche ellenistico eh si trova di fronte al problema di eh capire tutti i passi i mancanti del ragionamento eh il lettore post ellenistico si trova sicuramente di fronte al fatto che spesso e volentieri Archimede dice questo è stato dimostrato altrove e l'altrove non l'ha a disposizione perché appunto il tempo ha fatto sì che i libri a cui Archimede si riferiva eh siano andati perduti e inoltre proprio ha una struttura dimostrativa che rende eh faticoso eh rende costringe in qualche modo a riappropriarsi di quella matematica quindi non è una lettura appunto come eh elementare in entrambi i sensi della parola cioè che si parte dall'inizio e si arriva alla fine è una lettura che richiede già una certa competenza la matematica Archimede possedeva e quindi in qualche senso va rinventata ora una opera matematica di questo tipo così ardua cosa ha a che fare con il varo della nave con la corona d'oro che però all'orefice si era rubato un po' dell'oro cosa ha a che fare con i punti di appoggio cosa ha a che fare con tutto quello eh che il mito eh di Archimede ha costruito intorno alla sua figura una risposta eh a questo problema eh ci viene dall'interno da diciamo dal da come Plutarco eh da come Plutarco ci presenta Archimede eh nella vita di Marcello parla naturalmente eh di di Archimede del suo ruolo nella difesa di Siracusa e scrive io ho scelto questa traduzione nel 1859 così c'ha un tono un po' arcaico Onde non è da discredere quanto fu detto di lui che sempre rapito da certa particolare seco abitante sirena obbliava il bere e il mangiare e abbandonava ogni coltura del suo corpo e spesso trainato a forza dai suoi servitori al bagno per lavarsi e ungersi vi prego di notare questa storia del bagno eh disegnava nella scena del focolare le figure di geometria e col dito tirava le linee sopra il corpo suo mentre lungevano tanto era trasportato fuori di sé dal gran diletto che sentiva e rapito veramente dall'amor delle mose quindi l'interpretazione che ne dà Plutarco è appunto è quello che dicevo prima il genio distratto ehm è centrato su questo aspetto Archimede è contempla eh contempla un altro mondo mondo un mondo matematico iperuranico e ogni tanto da questo mondo discende e eh come scrivo qui eh si occupa delle ombre della caverna in cui ci agitiamo e costruisce la manusferra e difende la sua città ecco questo tipo di interpretazione della figura di Archimede è eh stata dominante nella storia della tradizione Archimedea nella tradizione Archimedea e come vedremo fra un secondo ha tuttora eh ha tuttora i suoi cultori questa eh questa cosa come immagino sia abbastanza chiaro eh rinvia una visione platonista della matematica in cui mh la appunto eh la matematica di che Archimedea che Archimedea fa in qualche modo è la stessa matematica che facciamo noi è una matematica che sta in un altro mondo ora mh eh qui eh per riprendere ripigliamo un attimo il discorso che abbiamo fatto fino ad ora quindi Archimede essenzialmente si occupa di geometria di misura da una parte e da quell'altra di modelli matematici di situazioni ideali la sua geometria di misura come tutta la geometria di misura greca è diversa dalla nostra perché comporta il confronto diretto fra una figura ignota per esempio la sfera non si sa quale sia come si possa misurare questa sfera una figura invece si ritiene più nota più domestica diciamo il cilindro per cui abbiamo il rapporto eh direi nella geometria greca e in Archimede in particolare non troviamo un teorema tipo il volume della sfera è quattro terzi pi greco r cubo ma eh troviamo un teorema che dice il rapporto fra la sfera e il cilindro è come quello di due a tre dall'altra abbiamo modelli matematici di situazioni reali eh le stadere reali da una parte da quell'altra la loro modellizzazione in una bilancia astratta il galleggiamento delle navi che vengono modellizzate e che viene modellizzato nel galleggiamento di un segmento di sfera di un paraboloide quindi anche diciamo nella eh presentazione che ho fatto prima della sua opera sia pure così proprio a volo d'uccello sembra di ritrovare questa dicotomia fra il matematico e l'ingegnere da una parte eh abbiamo il matematico che si occupa appunto di figure eh di rapporti eh e da quell'altra abbiamo l'ingegnere che cerca di costruire modelli eh modelli di di oggetti reali ora ehm questo eh questa problematica che ho illustrato fino adesso ha ehm è stata radicalmente cambiata è stata radicalmente cambiata nel a partire dal 1906 quando eh Johan Ludwig Heiberg un filologo danese che potremmo definire il creatore il creatore della matematica del senso che è a lui che dobbiamo quasi tutte le edizioni di mh delle opere dei matematici greci oltre a Archimede ha fatto l'edizione di Apollonio di Euclide di Teodosio di Erone eh di Tolomeo di Sereno non so cos'altro cioè praticamente il corpus della matematica ci è stato consegnato in gran parte da lui o da persone come Paul Tannerì che lavoravano o che si occupa che fece l'edizione di delle dell'aritmetica di Diofanto eh che lavoravano seguendo più o meno i suoi stessi criteri e dicevo eh nel 1906 ehm Johan Ludwig Heiberg che già aveva fatto un'edizione una prima edizione delle opere d'Archimede eh nel mille ottocento o ottantotto se non mi sbaglio no ottantuno scusate ottantuno ottantadue ehm scopre a Costantinopoli il famosissimo palinsesto di Costantinopoli che credo tutti sappiate abbiate sentito nominare vedendo il pubblico che che si è radunato oggi eh nel 1906 appunto viene scoperto questo palinsesto non mi dilungo ad spiegare cos'è un palinsesto un codice di pergamena lavato sfascicolato lavare i fogli pergameno vengono lavati eh ripiegati e si viene rifascicolato e ci si riscrive sopra su eh questo palinsesto che eh attualmente eh che nel 1906 costituiva un libro di preghiere ehm questo libro di preghiere era stato eh costruito eh utilizzando un codice che conteneva opere di Archimede e eh questo codice è quello più antico che possediamo di Archimede risale al decimo secolo circa dopo Cristo ovviamente ehm in questo codice che contene che appunto ebbe un per Heiberg un'importanza fondamentale per controllare le concetture che aveva fatto precedentemente eccetera eh Heiberg fece una scoperta fondamentale eh fondamentale conteneva un'opera che nessuno conosceva era citata vagamente da Erone ma nessuno citata anche da un erudito bizantino ma proprio in maniera talmente talmente tangenziale così da poter minimamente capire di cosa si trattasse Archimede nelle altre sue opere non ne parla mai d'altra parte l'ultima che ha scritto quasi certamente ehm dicevo oh in quest'opera Archimede scrive a Deratostene il famoso direttore della biblioteca d'Alessandria eh è primo a trovare un metodo per misurare la circonferenza terrestre oltre che per altre cose eh scrive a Deratostene eh in in un teo una lettera di fatto in cui espone fra le altre cose un il l'approccio euristico che aveva seguito per trovare i suoi teoremi questo palinsesto ha avuto poi una storia una storia complicata eh perché durante la dopo la prima guerra mondiale durante la rivoluzione turca ehm scompare finisce nelle mani di collezionisti francesi eh durante la seconda guerra mondiale viene ulteriormente adulterato fino a che nel millenovecentonovantotto viene venduto da Cristis ehm a un'asta di Cristis a New York per la piccola cifra di due milioni di dollari dico piccola senza nessun intento sarcastico perché trattandosi di un'opera così importante due milioni di dollari erano una miseria rispetto non so le quotazioni di di maschi per esempio ehm questo eh so che Stefano ne sa molto più di me di questa storia quindi non mi dilungo ulteriormente anche perché sarebbe lungo. Chi fosse curioso di sapere bene di cosa si tratta ehm nella eh duemila undici è uscito per la Cambridge University Press ehm la trascrizione completa di questo palinsesto che oltre a opere Archimede contiene due razioni di un retore greco ehm oddio mi sfugge il nome ehm due razioni di un retore greco e eh la trasferire e la tutta la storia del palinsesto del suo restauro eccetera eccetera per chi invece non volesse affrontare questo questo questa cosa c'è un'opera più diciamo più per il vasto pubblico che il codice perduto da Archimede è scritto sempre da Nez e Noel eh scritto sempre da Nez e Noel che è mh pubblicato dalla burra nella sua traduzione italiana ora però eh quello che mi ha stupito cercando appunto il riferimento per il bibliografico preciso per voi è di trovare nel sito della Rizzoli questa pagina che vi ho eh poi segue con la descrizione del libro ma appunto è Plutarco è veramente duro a morire vedete che la storia di un libro ritrovato e dei suoi segreti matematici la matematica è l'ombra del mondo reale riflessa sullo schermo della ragione questo ehm in effetti la scoperta del palinsesto è ehm già dai tempi di Heiberg portò un'interpretazione da parte dello stesso Heiberg della cosa di Archimede in senso nel senso che dicevo prima lasciamo perdere il platonismo ma nel senso sicuramente di eh quello che ehm coi re chiamava il vizio di cercare precursori eh nel senso che eh Heiberg nel 1907 quando pubblica la sua prima trascrizione del metodo scrive eh questo nuovo metodo di Archimede in realtà non è per nulla diverso dal metodo del calcolo integrale e con questo ehm dal calcolo integrale diciamo che possiamo datare a Cauchy cioè inizio dell'ottocento diciannove secoli più altri tre ventidue secoli di di storia matematica vengono ipso facto cancellati non è successo assolutamente nulla ehm quindi hm diciamo ehm questo mh quanto ho parlato fino adesso sono più o meno trentacinque minuti quindi c'è mamma mia troppo ehm dicevo ehm questo eh che ho detto finora è come dire un po' un'introduzione al quello che ho detto proprio all'inizio vorrei eh il mio scopo in questa conversazione è di riflettere appunto su rapporto che c'è fra eh matematica di Archimede e matematica nostra fra ehm fra ehm mito di Archimede e eh e la sua opera matematica ora il eh metodo che è il titolo che gli attribui Heiberg appunto come dicevo prima un attimo e e possiamo cercare di rileggere diciamo vi proporrò ma di dire vi proporrò una lettura è decisamente un'esagerazione perché perché assolutamente hm cioè il metodo è un'opera molto complessa al punto di vista filologico matematico e quant'altro insomma richiederebbe ben altro che che una mezz'oretta di tempo ma vi vi proporrò diciamo alcuni spunti di una lettura del metodo diversa da quella che ne fece Heiberg ripresa poi da Netz da Riviel Netz nei lavori che ci ha fatto sopra. Netz è arrivato a portare alle estreme conseguenze questo tipo di di interpretazione arrivando a dire che il metodo di Archimede nel metodo Archimede in qualche modo non solo un precursore di Cauchy ma addirittura un precursore di Cantor che la ehm già concepiva la resistenza di insiemi infiniti e della corrispondenza fra insieme infiniti e cose di questo tipo quindi quello che vorrei proporvi molto modestamente ripeto è mh alcuni elementi che possono potrebbero giustificare una lettura diversa di tutta questa storia allora vediamolo un po' più da vicino alla forma di una lettera indirizzata della Tostene eh fra le altre cose sottolineo fra le altre cose anche se il metodo è famoso soprattutto per questo Archimede descrive un approccio che in greco suona come tropos metodo è un po' eccessivo come traduzione di tropos un approccio per calcolare volumi e centri di gravità basato sull'uso di una bilancia e appunto come ho detto un attimo fa eh l'interesse verso il metodo si è centrato soprattutto su questi aspetti tuttavia eh è apportato a vedere Archimede come precursore del calcolo infinitesimale se non di peggio eh tuttavia non è solo e forse forse sottolineo il forse nemmeno soprattutto che Archimede scrive ad Eratoster infatti la lettera comincia dicendogli ti ho mandato tempo fa due teoremi sperando che tu li dimostrassi Archimede faceva sempre così trovava un teorema si faceva la sua dimostrazione mandava l'enunciato ad Alessandri e ad Alessandria non gli rispondevano ehm eh sperando che tu li dimostrassi in modo da da confermarmi che i teoremi si erano buoni tuttavia non l'hai fatto comunque gli enunciati erano questi eh ora questo è l'enunciato eh la ehm come si dice ehm prima annunciato riguardava quella che oggi si chiama unghia cilindrica cioè quella che si ottiene tagliando un prisma a base quadrata eh vedete qui c'è una circonferenza eh iscritta nel quadrato di base nel modo che vedete eh tagliando un prisma a base quadrata in cui è scritto un cilindro tagliandolo nel modo che vedete tagliando il cilindro nel modo che vedete ottenete questa specie di zoccolo di cavallo questa questa unghia come si usa a chiamare e Archimede dice che l'unghia è un sesto della prisma poi trattava di un altro solido quello che si ottiene intersecando due cilindri e eh avete un cubo eh inscrivete eh in due facce opposte un cilindro e nelle altre due facce opposte un altro cilindro l'intersezione vi dà questa specie di bomboniera e dice questa specie di bomboniera è i due terzi del cubo e poi eh Archimede insiste e dice questi due teoremi hanno un carattere diverso da quelli che vi avevo spediti in altri tempi infatti le figure di cui si parlava cioè i perboloidi e gli soidi eccetera eh venivano confrontati in estensione con l'estensione di coni e cilindri ma fino ad oggi non era mai stata trovata una figura la cui curvilinea la cui estensione fosse uguale a quella di un solido limitato da piani ora la dimostrazione di questi due teoremi è scritto nel libro che ti sto mandando quindi sembra che il vero che il vero scopo comunque uno degli scopi del metodo sia di far vedere che l'unghia e l'intersezione di cilindri sono riducibili a soldi rettilinei ora ci si può domandare questi due soldi da dove vengono come sono come è venuto in mente ad Archimede di andare a considerare l'unghia cilindrica e la bomboniera ora eh una cosa a notare che l'incrocio dei cilindri forma una doppia volta crociera questo qui è il palazzo della ragione a Vicenza qui si vede bene avete eh il cilindro che è la fuga qui la la questo via questo questo porticato su cui si aprono delle degli altri semicilindri dall'altra parte producendo la volta crociera oppure in quest'altro questo qui è il palazzo ducale di Urbino ora ho scelto il palazzo ducale di Urbino non a caso da farvi vedere eh l'ho scelto non a caso perché ehm durante il rinascimento un altro matematico si occupò dello stesso problema Piero della Francesca nel libellus equinque corporibus regularibus studia la superficie e il volume della della volta crociera ehm il contesto sociale di Piero è quello del dello strato culturale intermedio è quello della cultura delle scuole d'abaco mercanti ingegneri architetti artigiani uomini d'arme artisti eh il contesto dimostrativo appunto è quello della matematica dell'abaco in cui i ragionamenti più che eh in maniera deduttiva si fanno per analogie per esempi si riutilizzano risultati classici cosa che fa anche Piero che il quale fra l'altro è stato uno dei primi lettori eh della nuova traduzione d'Archimede fatta verso il millequattrocentocinquanta da Jacopo da San Cassiano eh riutilizza e quindi Piero utilizza in maniera maldestra ma ottenendo alla fine un risultato corretto dei risultati dei conoidi e sferoidi questo è diciamo il contesto da cui viene fuori eh lo studio di Piero nel Libellus ma Archimede Archimede che è così eh la sua opera matematica è così come dire eh rigoroso diciamo così tutto così matematico così matematico deduttivo voglio dire qual è il contesto sociale di Archimede questo è un problema che non mi azzardo nemmeno nemmeno ad affrontarlo cioè la matematica teorica greca per chi era indirizzata non mi limito così soltanto a enunciarlo di sfuggita certo è indirizzata ad Eratostene dobbiamo dire con Copernico che matematica matematici scribuntur cioè la matematica si scrive per i matematici e quindi non ha alcun interesse pratico cioè potrebbe essere interpretazione di Plutarco o di Nez il contesto dimostrativo è il contesto dimostrativo è quello della struttura deduttiva della matematica greca certo c'è una presentazione di un approccio euristico ma poi una volta detto che l'approccio euristico la catena di ragionamenti è rigorosa e da quella da quell'approccio euristico Archimede tira fuori dimostrazioni rigorose anche per l'unghia cilindrica e per la volta quindi sembriamo l'esempio di Piero da Francesca ci rinvia una volta di più alla come dire alla dicotomia fra matematica pratica e matematica teorica però non questo mi cerco di avvicinarmi al punto che mi interessa nonostante tutto la doppia volta di Piero e quella di Archimede non potrebbero avere la stessa origine infatti come ho accennato prima la sua opera meccanica può realmente essere interpretata come modellizzazione di situazioni reali lo studio della leva dei centri di gravità che fa nell'equilibrio dei piani possono essere interpretati come una modellizzazione della stadera reale lo studio il suo principio di galleggiamento e lo studio delle condizioni di equilibrio di un paraboloide immerso in un liquido può essere interpretato come una la modellizzazione del galleggiamento reale la doppia volta può rientrare in questa modellistica ora qui arrivata a questo punto cito un aneddoto personale nel 2008 ci fu un convegno su Archimede a Siracusa dove il mio amico Ken Saito amico di molti dei presenti affrontava il problema di come Archimede fosse arrivato a concepire questi due solidi e proponeva una teoria piuttosto acuta e interessante non me la sto nemmeno a riassumere non provo nemmeno a riassumervela alla fine della sua conferenza gli dissi che tutto questo è molto carino però scusami Archimede non gli potrebbe essere venuto in mente di studiare la doppia volta perché era una doppia volta e lui mi rispose ah no di sicuro non lo sai che i greci non usavano l'arco io di fronte a questa obiezione eh Michetai però eh ben presto vennero fuori cose nuove e interessanti proprio rispetto all'obiezione che Ken mi aveva fatto ora eh il problema della corona ve li ho ve l'ho citato più volte ora è giunto il momento di di riprenderlo un attimo bene eh sappia immagino che lo conosciate quasi tutti il re di Siracusa aveva commissionato una corona d'oro da dedicare agli dèi lo re le chiacchiere le pettegolezzi di corte gli dicono che l'orefice si era rubato una parte dell'oro l'aveva sostituito con argento Gerone chiede ad Archimede di ehm scoprire il furto di modo da poter punire l'orefice Archimede non sa come fare perché non può assaggiare la corona con i mezzi che si usano normalmente va alle terme va alle terme eh e immergendosi nell'acqua ha un'intuizione per cui corre fuori dall'acqua urlando Eureka Eureka Cardano raccontando quest'aneddoto dice e non si sa se è più da lodare per la scoperta o più da biasimare per la vergogna di correre nudo per le strade eh corre nudo a casa e lì prende un vaso pieno d'acqua ci immerge la corona eh misura l'acqua che esce ci immerge una palla d'oro dello stesso peso misura l'acqua che esce ci immerge una palla d'argento dello stesso peso misura l'acqua che esce e confrontando i volumi d'acqua scopre il furto dell'orefice questo è questo racconto qui ce lo fa Vitruvio ed è tutto quello che sappiamo al riguardo però come erano fatte le terme che Archimede frequentava cioè abbiamo già visto prima nel racconto di Plutarco che Archimede quando i servi lo trascinavano in bagno alle terme cioè trascinavano al bagno cioè eh alle terme eh continuava a pensare alla sua matematica quindi evidentemente eh andare alle terme gli serviva come eh mezzo di rilassamento mentale per per pensare ai suoi teoremi qui dobbiamo fare una digressione eh Morgantina eh Morgantina eh è una località non lontana da Enna attualmente nel comune di Aidone eh in Sicilia che fu un centro importante eh del dominio siracusano nel terzo secolo eh era uno dei centri più importanti dopo Siracusa e eh vedete qui eh un medaglione in argento dorato che è stato ritrovato a Morgantina ehm questi eh il cosiddetto tesoro di Morgantina che ora è a mezzadria fra un mi sembra il Metropolitan Museum di New York e eh il museo di di Aidone il museo archeologico di Aidone vedete che che è che splendore questa cosa ehm o eh quest'altra la famosa Dea di Morgantina ehm Dea di Morgantina ritrovata nel appunto negli scavi eh da dei tombaroli eh venduta al Polghetti Museum e dopo una lunga battaglia legale siamo riusciti a riaverla indietro e ora si trova nel museo di Aidone Morgantina era quindi un centro importante un centro ricco perché si trovava all'incrocio delle strade che dal diciamo dal dal mare andavano verso il centro della Sicilia centro agricolo importante un centro artistico eccetera 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 ehm cosa succede? Succede che eh quando eh Marcello conquista Siracusa la conquista non so far tutta la storia della conquista la potete leggere in Polibio per esempio in Livio eh quando Marcello conquista Siracusa eh la riesce a conquistarla eh fu una una cosa lunga anche perché Siracusa aveva tutta una serie di fortificazioni era una metropoli c'era l'unione di tre o quattro città eh riunite da tutto un complesso di fortificazioni riesce a conquistare il cuore di Siracusa dove si trovavano i palazzi del potere cioè l'isola di Ortigia grazie al tradimento di eh mercenari ispanici che erano al servizio dei siracusani questi mercenari ispanici consegnano Ortigia a Marcello e Marcello li deve ripagare e non trova niente di meglio da fare che dirgli andate a Morgantina e prendetevela era una preda bella ricca questo ha fatto sì che Morgantina i Morgantinesi non so come si chiamassero eh all'arrivo dei mercenari ispanici prendono scappano e se ne vanno via abbandonano la città mercenari ispanici sono pochi ehm si accampano praticamente in questa città deserta da fatto sì che Morgantina sia divenuto una specie di Pompei del terzo secolo anche se non c'è stata un'eruzione vulcanica l'eruzione del disastro che ha fatto sì che ci ha conservato la città più o meno nello stato in cui era nel terzo secolo è stato l'arrivo dei mercenari ispanici Morgantina poi continuò a vivacchiare fino al primo secolo dopo Cristo ovviamente perdendo ogni importanza eccetera eccetera i Morgantinesi prima di scappare e la speranza di poter tornare avevano seppellito avevano gettato nei pozzi le tutte le statue delle loro divinità del il tesoro di Morgantina che avete visto prima insomma è stato ritrovato ogni ben di Dio se avete occasione di andare in Sicilia vi consiglio proprio di cuore di visitare il museo archeologico di Aidone perché ne vale la pena cosa succede che appunto nel riscoperta nel 55 della missione archeologica americana le ricerche attuali ce la dipingono come un laboratorio non solo come una città ricca eccetera ma quello che è stato ritrovato nei vari scavi nei pozzi riempiti eh al momento della fuga eccetera ce la dipingono come un laboratorio di innovazioni tecnologiche tecniche ed architettoniche in particolare in particolare torniamo al problema di come erano le terme di Archimede eh in particolare sa che ore sono per favore scusate beh insomma sono i cinquantasette quindi cerco di non tormentarvi ancora per a lungo eh come erano queste terme di archimede nel ehm 2003 un archeologa americana Sandra Lucore comincia a scavare una certa zona della città e scopre dei bagni questi bagni erano qualcosa di completamente nuovo prima di tutto è il primo bagno antico che si conosca in cui ehm c'è una piscina le terme greche non erano come le terme che vediamo nei film eh nei film romani in cui ci sono questi qui che hanno queste specie di piscine il tepidarium il calidarium eccetera erano delle stanze dove c'erano delle vasche da bagno cioè praticamente erano dei bagni pubblici invece a Morgantina eh viene messo eh in atto per la prima volta almeno a quello che mi è stato detto ovviamente io non sono un archeologo quindi parlo sulla fede di Sandra Lucore viene messo in atto per la prima volta il sistema dell'ipocausto cioè un convoglio di di aria calda che scaldava da sotto l'acqua di una piscina di una delle sale e soprattutto come eh vedete ehm le gli scavi di Sandra hanno portato alla luce una questa cosa questa è una ricostruzione della dei bagni nord appunto della questa zona trovata vedete questa sala qui era ricoperta una volta a botte e ci si trovava un ehm una piscina quest'altra invece era sempre coperta una volta a botte e ci si trovavano le vasche da bagno quest'altra era coperta una cupola ehm semisferica grossolanamente semisferica e tutto questo nel terzo secolo come erano costruite queste volte e anche la cupola erano costruite con questo sistema c'erano delle specie di siluri di terracotta cadi e ehm ho potuto vedere come la cosa fosse stata ottenuta per prove ed errori perché ehm prima avevano cominciato a costruire di siluri troppo pesanti e l'arco gli crollava poi avevano trovato il diciamo il rapporto giusto fra spessore del siluro e sua grandezza no c'era queste queste specie di siluri cavi che si incastravano uno nell'altro in modo da creare un arco fino alla chiave di volta fino alla chiave di volta qua su dove c'era un tubo aperto dalle due parti e poi partiva anche dall'altra parte la eh la l'altro l'altro semi arco accostando un arco all'altro ricoprendo poi tutto di malta eh dipinta si otteneva la volta e la cupola era costruita con lo stesso sistema cioè con cerchi che si andavano restringendo fatti con queste queste specie di di siluri cosa più interessante di tutto è che al di là del fatto che Morgantina facesse comunque parte del dominio siracusano questi siluri di terracotta erano stati trovati a Siracusa stessa nello stesso periodo o in resti risalenti allo stesso contemporaneo di Archimede grossolanamente un archeologo italiano cultrera aveva trovato i resti un edificio idraulico in cui aveva trovato queste cose quegli scavi furono poi ricoperti ci restano delle scenografie ma e a questo punto ora eh entriamo così in un film comincio a farvi un film e mi immagino che Archimede si sia trovato eh disteso in una di queste vasche o sguazzando in una di queste piscine di nuovissima eh concezione tecnologica e guardando in alto e vedendo la volta sopra di lui si sia posto la domanda cosa succederebbe se si intersecassero le due volte e come potrei studiarne il solido che ne risulta ora se noi partiamo appunto dalla doppia volta si vede che eh la doppia volta cioè l'intersezione di due cilindri interi è scomponibile in otto unghie vedete qui c'è un'unghia questa qui qua ce n'è un'altra quest'altra e poi e fanno due e poi altre due qui altre due qui altre due qui e la volta si scompone in otto unghie quindi se io eh sapessi calcolare il volume dell'unghia saprei trovare il volume della doppia volta so penso che questo sia abbastanza chiaro questa che è un'idea questo questa cosa tenete conto di una cosa che nel palinsesto di Costantinopoli eh nel metodo la le ultime carte sono andate perdute cioè non ci sono pervenute non non erano pervenute nemmeno ai tempi di Heiberg cioè quando fu fatto il palinsesto nel mille il tredicesimo secolo andarono perduti gli ultimi fogli del metodo quindi non abbiamo la dimostrazione della eh della doppia volta abbiamo solo la dimostrazione dell'unghia che occupa le proposizioni dodici eh dodici tredici quattordici e quindici tuttavia eh gli storici della matematica dal millenovecentosette in poi si sono ovviamente dilettati di questa cosa e uno di essi ehm Reichenbach mi sembra eh aveva già ipotizzato questa cosa che Archimede avesse studiato questa tutti gli altri però si erano tutti gli altri si sono occupati della questione si sono lanciati in speculazione di tipo infinitesimale di come poter aver usato la bilancia eh gli stessi metodi che usano il metodo prima eccetera eccetera mentre invece questo tipo di approccio qui è mh ad avviso mio è di Ken Saito con cui abbiamo discusso a lungo e tutta la questione perché mi sono scusato di dire una cosa Sandra Lucore è un'amica di Ken Saito e vive in Giappone e quindi quando dopo eh che lui mi aveva detto ah ma non c'erano gli archi eh Sandra pochi mesi dopo Sandra Lucore andò da lui e gli disse senti non è che Archimede potrebbe aver inventato le volte e questo ha dato poi il via ad un paio di articoli che io e Ken abbiamo scritto ehm stavo dicendo eh questo modo di procedere è tipico ad Archimede per esempio per quello che riguarda il volume della sfera eh lui parte da un'intuizione molto semplice eh dice la sfera ho ho avuto l'idea che la sfera che così come il cerchio è uguale a un triangolo rettangolo che ha per base la circonferenza e per altezza il raggio che la sfera sia uguale a un cono che ha per base il triangolo eh la superficie sferica e per altezza il raggio cioè un'intuizione semplice naturalmente trasformare questa intuizione semplice in una dimostrazione rigorosa la sfera e il cilindro è un testo matematico affascinante anche piuttosto complesso ha tutta una serie di complessità non da poco e così molto probabilmente avviene per 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 questa per questa situazione un'intuizione relativamente semplice tagliare la doppia volta in otto unghie e a questo punto si prova il problema dell'unghia in questa maniera si risolve la cosa la 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 doppia volta è un solido naturale non è che è uscito dall'iperuraneo è uscito dalle innovazioni tecnologiche che avvenivano nella Siracusa del terzo secolo e l'unghia è uno strumento matematico per risolvere il problema della doppia volta ora mi limiterò ad accennare come può essere trattata la cosa come appena detto nel palinsesto è andata perduta la dimostrazione ma si può sostenere sulla base di soliti argomenti codicologici cioè di quanto spazio ci poteva essere nel palinsesto fra la fine del metodo e l'inizio dell'opera successiva ehm che eh la dimostrazione deve essere molto corta e si doveva ridurre probabilmente a un calcolo di questo tipo se assumiamo che l'unghia sia un sesso del prisma siccome il prisma è la metà del cubo la doppia volta sono otto unghie cioè sono otto sesti del prisma cioè sono otto dodicesimi del cubo cioè sono due terzi del cubo quindi se eh tutto il problema si riduce al calcolo dell'unghia il calcolo dell'unghia è una storia molto lunga molto lunghia scusate la battuta orribile non non sono riuscito a trattenermi eh è una storia molto lunga che non provo nemmeno a mi limito a dirvi la il succo della questione qui vedete l'unghia come al solito e eh Archimede ne fa eh tre dimostrazioni diverse una usando la sua suo metodo della bilancia che di cui ho solo parlato ma bisognerebbe fare un'altra conferenza per spiegarlo anche più corta di questa senz'altro ma eh la seconda euristicamente nel modo che vedremo fra un secondo e poi la terza utilizzando il procedimento euristico che vedremo fra un attimo trasformato in una dimostrazione rigorosa il calcolo dell'unghia avviene così tagliamo l'unghia con dei piani come questo piano qui eh tagliamo tutto quanto unghia eh e eh dente di sega qui prisma triangolare con dei piani ehm che vanno in questa direzione in questa direzione in questa direzione qui come eh il piano Y M N e nella nella semicirconferenza di base dell'unghia inscriviamo una parabola un segmento di parabola H Z E allora avremo che la sezione eh tagliando con il piano avremo che la sezione del prisma è il triangolo N Y M la sezione dell'unghia è il triangolo X S N sul piano di base sul piano di base abbiamo che la sezione del rettangolo è la linea N M e la sezione della parabola è la linea N L ora con un ragionamento abbastanza semplice di geometria per chi conosce cioè per Archimede di sicuro ma diciamo utilizzando eh le proprietà delle della parabola e del cerchio ovviamente si può dimostrare abbastanza facilmente che M N sta N L cioè tutto questo sta questo come M N quadro come il quadrato sta N S quadro ovvero sia M N è la sezione del rettangolo la sezione del rettangolo sta alla sezione del segmento di parabola N L come la sezione del prisma perché questi sono triangoli simili quindi quindi stanno fra loro come i quadrati lati omologhi come la sezione del prisma sta alla sezione dell'unghia quella blu a partire da questo da questo risultato sulle singole sezioni cioè se volete sull'indivisibile Archimede qui ripeto la cosa di prima Archimede ehm estrapola diciamo che il rettangolo sta alla parabola come il prisma all'unghia e siccome il rettangolo è i due terzi della parabola il prisma sarà i due terzi dell'unghia cioè il prisma triangolare e da poi dal prisma triangolare si deduce facilmente quant'è il prisma totale infatti ehm adesso queste sono cose che insomma la quadratura della parabola Archimede ha dimostrato la parabola del terzi del rettangolo circoscritto inoltre è ovvio che il prisma dente di sega la cosa interessante che questa dimostrazione questa dimostrazione è facilmente esportabile in questa dimostrazione euristica perché si passa dalle singole sezioni a considerare tutti tutto il solido cioè a estrapolare il rapporto fra le sezioni a riportarlo al solido eh prisma al solido unghia e alla rettangolo alla figura piana rettangola alla figura piana parabola no? Eh diciamo però è facile estrapolarlo in una dimostrazione rigorosa per doppia dimostrazione all'assurdo prendendo invece che delle sezioni dei eh approssimando tutto quanto con dei prismetti o dei rettangolini su sulla base e questo infatti è quello che Archimede fa nella proposizione quindici quindi ho finalmente finito ehm appunto per anni gli stori sulla matematica avevano proposto ricostruzioni fantasiose e anche appunto come il mio amico Ken anche molto sottili ed acute l'ultima proposizione del metodo e tutte quante ci proponevano ci proponevano questa Archimede geniale che eh sembrava più che un matematico del terzo secolo un viaggiatore del tempo che dai giorni di Coscio addirittura dai giorni nostri a detta di Nez fosse sbarcato nel terzo secolo anticristo quello che ci insegnano le volte di Morgantina ehm almeno che hanno insegnato a me e a Ken Saito eh è che eh ci sia un modo di interpretare la sua figura in modo più unitario un matematico che cerca di costruire modelli del mondo reale che gli stanno intorno e eh modelli che ehm e questo ci permette di avere un'immagine di Archimede che non ci sia più una frattura fra l'Archimede del mito e l'Archimede matematico. Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per l'eccessiva lunghezza. Ah no benissimo grazie grazie mille per il bellissimo intervento e il bellissimo racconto quindi direi che abbiamo ampio tempo per domande e commenti quindi come al solito cercherò di andare in ordine tra prenotazioni alzate di mano virtuali e messaggi in chat. Eh Silvia De Toffoli dovrebbe essere la prima ecco. grazie eh un intervento veramente molto interessante e questa è una domanda proprio una curiosità visto che conosco la via il Nets eh a Rostanford eh fino a qualche anno fa volevo chiedere come ha reagito a lui? Mi sente? Sì sì. Ah come ha reagito? Ti sento meglio con le cuffie. Ah ah ok. Come ha reagito eh Nets agli articoli che hai scritto con Ken Saito? In particolare ha eh ritrattato un po' eh il suo punto di vista o no? Ah non che io sappia direi direi di no eh direi di no eh Riviel è molto affezionato a quest'idea che Archimede sia stato il genio cioè che tutta la matematica moderna sia dipenda da lui che non non quindi direi di no sicuramente non non direttamente ecco non non che io sappia. Grazie no esatto ero solo curiosa. Comunque ho trovato appunto l'intervento molto interessante anche rispetto ai metodi che vengono usati nella nella storia della matematica storia e filosofia della matematica e come sia appunto questo episodio dimostra in maniera molto vivida come sia importante contestualizzare appunto anche nel contesto materiale in cui ci si in cui ci si trova. Quindi grazie. Questo era più un commento che grazie. Grazie. Allora un dato che mi scuso non non è presente la chat probabilmente a causa di l'avevo disattivata per esami e mi è rimasta disattivata quindi eventualmente facciamo per alzata di mano virtuale oppure dal disattivando il microfono perché vuole fare una domanda io? Certo Marco prego. L'uno che non sa che non fa lo storico e bella bellissima presentazione questo e ci sono tutte queste lettere che Archimede scrive ad Alessandria no? Perché abbiamo troppo di cui racconti. C'è modo di sapere se questi rispondevano? Non so hai detto di no a un certo punto o cosa? Cioè qualcuno ha usato in quel periodo li usavano i risultati di Archimede o li scriveva solo per se stesso? Dunque 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 allora lui le lettere che Archimede scrive ad Alessandria abbiamo lettere di Archimede ha un certo dositeo che è un allievo di un suo amico Conone. Sì. Infatti la prima delle opere che Archimede pubblica la quadratura la parabola che comincia dicendo avendo saputo che che Conone era morto io che sono rimasto addoloratissimo perché era un grande matematico un mio carissimo amico e sapendo che anche tu sei un matematico ti mando quello che avrei mandato a Conone. E a dositeo manda la quadratura la parabola la sfera e il cilindro il secondo libro la sfera e il cilindro i conoidi e sferoidi le spirali giusto mi pare o sbaglio dicendo anche che Conone avrebbe capito le delle dimostrazioni. Bravo eh esatto eh scusi esatta esattamente esattamente eh in effetti sembra che questo dositeo eh o non riceveva la roba oppure perché più di una volta Archimede si nervosisce un po' dice ma quello che mi chiedi con tanta insistenza te l'ho già mandato per via di Eraclide eh queste altre cose non insomma non sembra cioè quello che non sembra che eh la matematica e quello che scriveva Archimede almeno per la geometria di misura fosse eh particolarmente studiato apprezzato. Appunto nella lettera a Dera Toste ne dice ti ho mandato questa roba tempo fa eh spregandoti di fare una dimostrazione siccome non l'hai fatta mo te la mando. Eh quindi più in generale eh l'impressione che ho io però io diciamo così è un'impressione è che eh ad Alessandria la geometria di le cose di Archimede non fossero particolarmente apprezzate ehm perché c'erano altri tipi di interesse in particolare eh da quello che si può capire da l'interesse o essere più spostato verso la geometria di posizione cioè diciamo verso la geometria delle curve le coniche così non che Archimede non 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 si occupasse anche di teoria delle sezioni iconiche però eh quando parla di risultati sulle sezioni iconiche in genere rinvia degli elementi iconici dice questo è stato dimostrato questo è facile da vedere non 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 sembra che eh lui abbia scritto dei trattati non 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 cioè un po' come se un grande matematico di oggi un analista uno che si occupi che ne so di equazioni ellittiche mandi la sua roba a un amico che si occupa di teoria algebrica dei numeri probabilmente quell'altro gli dà un'occhiata sì sì questa è roba interessante però devo occuparmi di questa estensione di Galois non lasciamo perdere no eh questa è un po' la mia impressione non eh Archimede comunque eh l'opera d'Archimede eh Erone Erone che Erone non si sa bene quando si è vissuto diciamo che la critica moderna lo colloca fra primo e secondo secolo ma con grandi approssimazioni Erone eh ne immetrica lo cita più volte eh lo cita più volte e in particolare cita proprio questa storia delle volte cita un'opera sulle volte che è perduta e cita anche eh il metodo però citando un risultato fra l'altro la cosa buffa veramente buffa è che Erone citi il metodo per quello che riguarda la sfera il cilindro cioè il risultato relativo alla sfera il cilindro quasi che ai tempi di Erone la sfera il cilindro già non 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 ce l'avesse sotto mano eh addirittura nel sesto secolo quando Eutocio che è un commentatore retardo antico eh scrive il suo commento alla sfera il cilindro alla ehm all'equilibrio dei piani e alla misura del cerchio è eh chiaro da quello che scrive che lui non conosce la quadratura della parabola da tutto questo sembra dedursi che lo studio di Archimede diciamo già nel tempo antico non sia stato già nel momenti più alti della matematica antica ehm fosse proprio quello più fosse l'argomento più di moda ecco grazie quindi non avrebbe vinto la Fields Medal diciamo nonostante ci sia sulla sua effigia oggi perché non era compreso insomma non eh sì ma sicuramente non non ci sarebbe stata la Fields Medal però nel senso che è una comunità internazionale di matematici ah giusto hai ragione è un una cosa molto moderna grazie eh ma comunque la ringrazio per questa cosa perché appunto eh si rifà una cosa che ho appena accennato che ruolo sociale aveva la matematica teorica nel mondo antico è una cosa che proprio a me è completamente misteriosa non non lo saprei rispondere certo non una comunità di matematici come quella possiamo immaginarci ora eh eh assolutamente anacronistica ecco grazie grazie la ringrazio sì sì ho capito ho capito credo eh se posso Pier Daniele per completare il discorso invece eh rispetto a quello che dicevi sulla fortuna di Archimede nel mondo antico invece a Pollonio ha avuto una fortuna maggiore eh nell'antichità? Beh eh direi di sì perché eh Pappo che eh scrive eh cinque secoli dopo cinque sei secoli dopo Polonio a fine del terzo prima metà del secondo Pappo scrive verso la fine del terzo secolo dopo Cristo inizio quarto eh dedica un intero libro a analisi e sintesi e eh gran parte del settimo libro appunto questo a eh Lemmi per capire le coniche di Apolloni e altre opere di Apolloni eccetera eccetera quindi il tesoro il tesoro dell'analisi anche perché a Pollonio scrive un trattato cioè per fare un film è difficile eh immaginate un un articolo sulle superfici qualcosa di veramente arduo di oggi che sopravviva da solo no senza 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 i manuali senza le cose è molto difficile poi leggere la distanza di secoli grazie posso chiedere un'altra domanda veloce un po' follow up? Sì prego volevo chiedere c'è una cosa che mi ha colpito quando ho detto appunto Archimede mandava queste lettere con i teoremi ma solo gli enunciati per capire se eh appunto qualcun altro potesse provarli e quindi i teoremi erano buoni ma è strano dal punto di vista appunto contemporaneo è strano che si mangiano solo gli enunciati e non anche la dimostrazione da controllare quindi mi chiedo appunto appunto eh le motivazioni come funzionavano appunto queste lettere e perché su questo Ness c'ha nella sua eh si vede si vede sì 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 che è la traduzione commentata delle spirali uscita due anni fa su questo Ness ci ha costruito un romanzo sopra eh cioè che lui Archimede facesse queste simili cose perché voleva sfidare i suoi corrispondenti Alessandrini questo è un secondo me non lo so eh secondo me uno storico in mancanza di altro in mancanza di altre fonti l'unica cosa è la cosa migliore da quando quello di cui non si può parlare si deve tacere insomma non cioè non lo so sta di fatto che scrive e dice ti ho mandato questo poi perché lo facesse se volesse prendere in giro i matematici Alessandrini se lo facesse per avere conferma dei suoi risultati come scrive peraltro se ci fosse qualche altro motivo sinceramente non lo so non sono in grado Enrico tu volevi parlare per caso? No io volevo soltanto aggiungere a quello che dicevi te sulla fortuna di Apollonio e di Archimede diciamo il fatto ben noto che nel mondo arabo Archimede è praticamente sconosciuto quasi del tutto sconosciuto mentre Apollonio è studiato e tra l'altro alcuni gli ultimi libri delle coniche ci sono arrivati solo grazie alla traduzione araba quindi diciamo il passaggio anche dall'antichità al mondo moderno è quello che e tutto sommato se questa è una cosa di cui abbiamo parlato con Daniele più volte diciamo piuttosto che dire che la matematica moderna diciamo è figlia di Archimede direi piuttosto figlia di Apollonio ma diciamo in maniera molto molto come dire io direi figlia di Pappo sì ancora sì anche beh vabbè insomma sì comunque diciamo Archimede ha un'influenza tutto sommato nella matematica moderna piuttosto non principale ecco non è l'influenza principale è stato scambiato a mio parere una affinità di problemi cioè il calcolo infinitesimale e i metodi Archimedei con una effettiva influenza scientifica che invece non è questo è un po' mi pareva che su questo eravamo sono completamente d'accordo cioè quando Archimedei è riscoperto c'è una fiammata nel corso della fine del cinquecento primi vent'anni del seicento primi trent'anni del seicento e poi dopo fine perché ci sono metodi e punti di vista talmente diversi da quelli greci che mentre invece invece la tradizione diciamo appolloniana e soprattutto pappiana che è un testo che pone tantissimi problemi perché descrive libri che non ci sono quindi stimola l'idea di ricostruire libri parla di cose che non si capiscono tipo cos'è il luogo il luogo cos'è e fermata una parte e decare quell'altra a partire da quest'idea di queste accenni al luogo che fa pappo si inventano il concetto moderno di curva insomma non sono completamente d'accordo che Archimede ha un ruolo importante ma brevissimo come dire è un fuoco di paglia salvo poi essere riscoperto da Cauchy che per sistemare la sua teoria dell'integrazione ritorna a quel tipo di metodi non so se sei d'accordo Enrico ritorna scusa non ho capito salvo essere in qualche modo riscoperto da Cauchy che per sistemare la teoria dell'integrazione ritorna ai metodi Archimedei ma semmai da Riemann semmai da Riemann perché in Cauchy quello che gioca è la continuità che gioca in maniera essenziale la continuità in Archimede è proprio l'ultima cosa che uno ci può trovare semmai le approssimazioni da dentro di fuori dei pluri rettangoli sono Riemann ma insomma sei rimasti molto interdetti ma si sente quello che dico sì mi hai sorpreso il tuo intervento Enrico nel senso nel senso che tu avevi spiegato un giorno a Trento molto bene come mi pare adesso Galileo, Tartaglia, poi Galileo fossero stati quindi l'influenza di Archimede sulla matematica moderna è fortissima attraverso loro o no? no si ferma lì probabilmente si fermano lì come diceva Daniele si ferma lì perché poi la matematica moderna nasce quando queste cose vengono dimenticati cioè nasce con la geometria di Descartes la geometria di Descartes non ha niente a che vedere con Archimede e da lì poi riparti il calcolo infinitesimale ha dei problemi simili a quelli di Archimede perché calcola dei ma i metodi sono totalmente diversi e in matematica diciamo contano più i metodi che contano più le tecniche che i problemi cioè l'influenza di un autore è più con le tecniche che mette in campo piuttosto che con i problemi che studia ma Galileo però usa le tecniche di Archimede in qualche modo no? in qualche modo sì 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 ma Galileo voglio dire fa ripartire sì ma Galileo è il punto finale dell'Asterio non è il punto d'inizio ah grazie ok Galileo diciamo è il punto finale della matematica rinascimentale ho capito Galileo Valerio Valerio sì sì ho capito Polico sono diciamo è il ritorno di Archimede Archimede ritorna viene riscoperto siamo anche lì Archimede durante il Medioevo come ha dimostrato Claget anche se Claget forse non sarebbe d'accordo con me è praticamente inesistente si conosce forse si conosce la quadratura del cerchio per modo di dire sì si conosce la quadratura della parabola poco più insomma viene riscoperto agli inizi del Cinquecento ci sono c'è a cominciare da Reggio Montano alla fine del Quattrocento da Reggio Montano dal Balla e poi diciamo da luogo ha un'enorme quantità di ricerche soprattutto nella direzione delle opere mancanti perché le opere di Galileo sono concluse questo pure è un punto le opere di Galileo sono chiuse con oide e sferoidi c'è ben poco da aggiungere alla sfera e al cilindro è difficile aggiungere tante cose sì si possono fare delle quali sono le opere di Archimede che hanno un'influenza importante nel Cinquecento? sono l'equilibrio dei piani perché? perché manca l'equilibrio dei solidi e quindi c'è una spinta a studiare i centri di levità dei soliti i galleggianti perché? perché è arrivato i galleggianti in una condizione pessima e quindi difficile da essenzialmente da ricostruire diciamo queste sono le due opere ma soprattutto l'equilibrio dei piani che vengono studiate se ti guardi i maggiori matematici del Cinquecento e dell'inizio del Seicento sono quasi tutti scrivono un libro sul centro anzi sui centri di gravità con Mandino, Maurolico, Galileo, Valerio scrivono Clavio Clavio forse no, Clavio di sicuro ma io di queste cose non so niente no, no, ma c'è una lettera di Stasevio che dice aspetto il suo libro sul centro di gravità e poi dopo in una lettera dopo dice ah, peccato che non lo pubblichi visto che è uscito quello di Valerio quello di Valerio ma infatti anche Valerio un pochino è quello che mette tutti a tacere in qualche modo anche Galileo che diceva questo l'ho fatta da giovane ma poi quando ho visto Valerio ma Cavalieri stesso studia i centri di gravità anche se ormai siamo proprio a una ricerca un po' estenuata nel senso che ormai quello che c'era da dire dopo che Valerio aveva trovato il conoide verbalico c'è ben poco poi ancora da ci sono, è vero, ci sono ancora dei filo per esempio Pascal studia ancora diciamo nella direzione degli studi delle tecniche archimedee diciamo le parti sulle quadrature di Pascal ma già in maniera molto molto moderna quello che si interessa a Pascal essenzialmente è con un linguaggio archimedeo di far vedere che certi problemi si riconducono allo stesso calcolo se uno conosce tutte le linee conosce anche questo se uno conosce che so tutti i quadrati allora conosce anche il centro di gravità e così via insomma è tutta una lunga praticamente direi una equivalenza di integrali se conosce questo integrale conosce anche quest'altro e invece se posso chiedere su Pappo che è stato nominato da Pier Daniele come invece il matematico che ha inciso molto anche poi sugli sviluppi successivi la nascita della geometria analitica eccetera io ho in mente l'edizione di Comandino mi pare il 1588 qualcosa del genere prima invece circolava comunque o è stato Comandino che l'ha tolto dalla polvere diciamo dunque Pappo la situazione è questa cioè tutta la tradizione greca manoscritta di Pappo dipende da un unico archetipo che è il Vaticano greco 208 se non mi sbaglio questo questo codice a partire dagli ultimi anni del cinque del quattrocento poi nel cinquecento viene copiato tantissime volte però viene copiato sempre in greco a tentativi di traduzione che io sappia non ce ne sono e la cosa l'articolo di riferimento sulla tradizione di Pappo è un articolo di un australiano Triwik scritto tre week come settimana pubblicato molti anni fa fra l'altro cosa succede? succede che Comandino nell'ambito delle sue cose traduce Pappo e il Pappo di Comandino sarà il Pappo che verrà letto fino all'ottocento poi tuttavia questa grande diffusione manoscritta mi ma ma sempre incuriosito perché vuol dire che evidentemente c'è un interesse verso è un matematico greco quindi essendo un matematico greco c'è un interesse verso di lui su questo non c'è dubbio però quanto venissero studiati questi maloscritti che venivano copiati che ne esistono ma non so quanti e tanti ora non ricordo ma dell'ordine di 30 e la traduzione di Comandino diciamo sarà il Pappo fino a quella di Ulsch e tutto e tuttora insomma non esiste un'edizione critica moderna quella di Ulsch ha parecchi difetti in quanto scoprì tardi l'archetipo esiste un'edizione critica buona del settimo libro fatto da Alexander Jones un'edizione meno buona fatta da una studiosa tedesca ora non viene in mente il nome del quarto libro e poi che io sappia basta oltre a quella di Ulsch quindi il Comandino è sempre utile con il succo della questione questo qui e fra l'altro c'è un famoso errore di traduzione di Comandino nel settimo libro che è quello che spinge Descartes a pensare che i greci avessero trovato una soluzione al problema di Pappo per le 5-6 linee e quindi dice io la trovo la trovo anch'io eccetera una storia famosa questa quella mentre Pappo dice non hanno trovato di questo problema non si è trovato nemmeno una soluzione Comandino traduce ne trovarono una era caduta evidentemente nel suo codice un me o qualcosa del genere ecco però diciamo a fronte di questa diffusione manoscritta l'edizione di Comandino non ha avuto una grande diffusione almeno da quello perché è stata riproposta tre volte le stessi gli stessi fogli sono stati riproposti tre volte da tre editori diversi sempre gli stessi e quindi evidentemente non si vendevano non so se sai lo voglio dire doveva costare parecchio perché Pappo ho capito però Archimede se sono state tonnellate le edizioni nel cinquecento sì Archimede è Archimede c'è tutto il mito di cui ho parlato chi è che non vuole comprensere Archimede Pappo anche a Pollonio c'era stato almeno due edizioni più tutti i rifacimenti perché poi a Pollonio essendo molto difficile c'era tutta un'opera di volgarizzazione delle sezioni iconiche scritte in tanti a cominciare qua tra cui anche Cavalieri ma si sa dove Cartesio ha letto Pappo cioè lo possedeva l'avrà letto alla flash che c'era a Parigi ovviamente l'avrà trovata in qualche insomma circolava dicevi Enrico che ha circolato poco ma un po' ha circolato ha circolato no no poco io dico soltanto perché diciamo era era d'uso i libri che non si vendevano poi arrivava un altro editore si comprava tutto lo stock da un librario si comprava tutto lo stock di libri invenduti ci metteva un suo nuovo frontespizio con il suo nome e lo rimetteva in circolazione il Pappo è stato nel giro di pochi anni è stato rimesso in circolazione tre volte che vuol dire che almeno due editori non l'hanno venduto e quindi poi poi è stato ristampato nel 60 mi pare nel 1660 o mi sbaglio si da Manolessi nel 1661 a Bologna è stato ristampato ma quindi diciamo non doveva essere questo best seller ma naturalmente diciamo Fermat lo stesso Viet immagino ma Viet ecco Viet da questo punto di vista è misterioso perché non lo cita mai che io sappia nemmeno quando dovrebbe non lo cita no 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 questo no quando enuncia il problema dei tre cerchi e se la piglia con Adriano non dice reclamerebbe Pappo e tutti i pappiani dice reclamerebbe siccome Van Ruhm l'aveva risolto intersecando i perbole invece non riga il compasso non dice reclamerebbe Pappo e tutti i pappiani dice reclamerebbe Euclide e tutta la scuola degli Euclidei quindi l'atteggiamento di Viet verso Pappo che sicuramente una sua fonte è piuttosto piuttosto strano ora come direbbe Garileo guardate dove siamo andati a trascorrere dove sono finiti i nostri discorsi ci manca solo di metterci a parlare della crisi di governo siete tutti toscani quindi ne potete parlare allora sì non so se ci sono altri commenti o domande allora se no io direi che potrei Stefano voglio dire no no ah no scusta allora io allora proporrei voglio io che racconti qualcosa racconti un po' del tuo amico miliardario così chiudiamo con questo mi si sente sì potrei solo potrei solo dire amico tu hai visto un palinsesto ragazzi in un'occasione del genere non si può sprecare racconto come è andato sono andato a visitare una biblioteca privata che sapevo molto ricca ma non pensavo così ricca e quindi sono proprietario mi ha fatto accedere a questa a questa sala stracolma di libri dove veramente uno nominava qualunque libro appartenente alla quella che chiameremmo in senso lato la storia della scienza lui aveva l'aveva se non con appunto per dire dei principi di Newton aveva non solo le tre edizioni ma una seconda copia della prima edizione con tanto di dedicati di Newton che è una cosa peraltro rarissima estremamente stai sbavando vero stai sbavando Enrico chi posso confessare una cosa oggi proprio oggi o ieri ho comprato il discorso sul metodo di De Gatti vabbè allora mi taccio immediatamente vi saluto chiudiamo chiudiamo qui finisce la storia appunto ho questa bellissima biblioteca dove c'è veramente di tutto comprese il discorso sul metodo di Descartes e tante altre cose ma non solo di storia della scienza c'è per esempio il first folio di Shakespeare e tutti che ne esistono soltanto due copie in mano private non solo il first folio ma tutte le quattro edizioni in folio di Shakespeare le ho tenute in mano tutte e quattro contemporaneamente mi sono fatto fare una foto perché è una rarità assoluta di tutto veramente ho visto anche cose vabbè esatto e a un certo punto lui mi portava in giro in questa grande sala qui c'è questo qui c'è quello poi a un certo punto mi dice devo andare devo uscire ti do una breve descrizione di quello che non abbiamo visto così che tu possa rimanendo qui dentro da solo il paradiso dei bibliofili ma non dei ladri libri perché tra l'altro lui ha anche tra i suoi libri un libro di quelli falsi di De Caro famosi che è la prima edizione della lettera di Cristoforo Colombo in cui la stampa in cui si annuncia la scoperta dell'America lui ce l'ha nel falso di De Caro che ha pagato la modesta cifra di 850.000 dollari di cui è riuscito a recuperare soltanto 600.000 dollari e i 250.000 che ha perduto sono cose che cazzo giusto vabbè insomma comunque prima di uscire mi ha detto qui ho gli Atlanti là ho le Bibbie lì c'è Newton Newton nel senso lui ha una quarantina di testi appartenuti alla biblioteca di Newton con le annotazioni di Newton eccetera e poi dice là ho Archimede Archimede che cosa? dice paninsesta e quindi non sapevo assolutamente che si trovasse lì sono andato e ogni appunto ogni foglio è inserito in una teca dedicata con condizioni particolari per mantenere e conservare al meglio i vari fogli e quindi ho avuto questo piacere di tenerlo per le mani attraverso la teca chiaramente soltanto stava tra l'altro costruendo in quei giorni proprio una libreria una scaffalatura dedicata a conservare appositamente tutti questi fogli l'ho poi vista completato a una visita successiva e insomma è un'emozione ma ci sono tante cose per i bibliofili per quelli che si possono permettere certi libri per chi anche non se li può permettere è veramente un posto il paradiso sulla terra per chi ama queste cose una collezione forse come ha detto il proprietario è probabilmente la collezione più ricca al mondo per quanto riguarda la storia della scienza ce n'è un'altra che compete però insomma non ha il palinsesto per esempio che è in copia unica e quindi non non si avvicina così mi hanno raccontato questa net allora io direi che a nome di tutti voglio ringraziare per primo Pier Daniele per il bellissimo racconto il bellissimo intervento e tutti i partecipanti per aver condiviso tutti questi bei racconti pensieri commenti in questo bel pomeriggio quindi ringrazio ringrazio tutti e sperando di vederci per la prossima settimana al nostro giovedì alle 15 giovedì esatto va bene grazie a tutti quanti grazie davvero grazie grazie ancora bellissima conferenza grazie a tutti